Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, siamo su Sujtegun, ok dove eravamo rimasti che cosa dobbiamo fare dovevamo fare centrale nucleare da quello che ho capito ok, ah no è il grande fratello, ok musica fuori del cazzo, ok non mi fai andare là, allora cosa dobbiamo fare che bastardo allora, 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 allora qua c'è una scala zio però se mi fai salire mi fa un piacere spegniti che mi stai già sulle palle allora, ma scusa io mi butto di qua non muori? cazzo, mica ho fatto un bel volo eh una ciattia allora, ok qua c'è un istintore che io prendo perché mi servirà aspetta questa musica ho già rotto la minchia ok scendiamo di qua eh ah ok in teoria no si ho ah, vedi queste cose qua ci impediscono di fare le cose, vedi adesso quello sicuramente mi chiude la porta ma io sono ok, più furbo di te ok eh ok 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 quindi dove sei pezzo di minchia? eee la sopra come cazzo allora aspetta come ci arrivo là sopra ok qua c'è una scatola non posso? no, non cadere giù aspetta un attimo ah ma basta con un salto scusa non servono ste minchia di scatole mi sa vediamo un po' se ce la faccio primo colpo eh no aspetta un attimo allora come cazzo potrei fare? vediamo un po' allora ah, vedi fatto ok ok qua servono le la scatola qua serve che è lassù ok ok si vai tranquillo che devo solo portare ok ok quella mi serve per andare avanti la scala ma se questo cazzo di cosmo non riesco a portarlo su allora aspetta un attimo mi fa un culo via sto cosa porca puttana ti vuoi spostare? via allora se ho capito cosa devo fare con un salto non ci arrivo di certo quindi quindi porca troia non ci arriva con i salti sta merda dio povero ti muovi ah ma se non ho l'istintore poi caro mio costardi allora e per ah forse non so capito cosa serve sto coso ma non pensa oddio santo sto livello di merda ma scusa sì porca puttana come ci arrivo là su io canaia dio povero dio povero ok ce l'ho fatta ce l'ho fatta ok adesso basta soltanto un booster in teoria se è domani ce l'ho voglia ogni volta quanto è già sto cazzo di rumore ah no guarda guarda ce l'ho quasi ce l'ho quasi cioè il mongoloide però salta di lato no non ce la fa non ce la fa perché è così handicappato che si blocca se avete visto ok oh salto da 50 minuti balliamo no ok vai oh sì grazie a dio spero che aspetta va fammi pigliare dove cazzo l'istintore non si sa mai che me ne serve ancora mi fai salire le scale con l'istintore vero sì meno male dai Gesù dove devo andare ancora non è finita mi sa non è finita mi sa no babbà c'erano gli istintori che devo fare sector ok 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 quindi c'è un istintore no dio povero zitto troia no e cade come un deficiente aspetta un attimo io da là sono arrivato quindi zitto ok abbiamo preso la statuetta allora quindi e sali devo mettere il locket grazie alla minchia dove è il locket e da qua che cazzo devo fare ok qua non c'è niente allora devo andare lassù vediamo qua c'è un cazzo qua c'è una scala vediamo un po' non c'è niente niente non lo so non c'è un cazzo da fare eh no l'ho rifatto l'ho rifatto tutto stasera io da qua sono arrivato quindi aspetta un attimo non cazzo eh no mi serve un floppy qua però se mi fa andare qua vediamo forse qua su vediamo no un cazzo un cazzo dove guarda dove era dai non ce la faccio più sto livello troppo difficile mamma mia che palle ok inserite floppy muori 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 ok in teoria è tutto morto in teoria posso uccidermi vediamo un po' posso entrare posso schiacciare il tasto mamma mia che faticaccia ok ragazzi ci vediamo la prossima volta in un altro video ciao